Alla luce dei drammatici eventi che si sono registrati nei mesi scorsi in diversi Atenei italiani, nei giorni scorsi il Rettore Unicam Claudio Pettinari ha inviato per mail alle studentesse e agli studenti dell'Ateneo e ha diffuso sui social un video con cui ha voluto sottolineare quanto sia importante essere e sentirsi comunità e ricorrere nei momenti di difficoltà a tutti gli strumenti che si hanno a disposizione senza aver paura di mostrare le proprie fragilità. Ascoltiamo il videomessaggio. Cari studentesse e studenti di Unicam, abbiamo ricevuto una brutta notizia. C'è stata una ragazza, una studentessa dell'Università di Napoli che purtroppo si è tolta la vita. Era una ragazza che probabilmente stava vivendo un momento difficile, un momento di quelli che capita un po' a ognuno di noi. Quando siamo in difficoltà non dobbiamo aver paura di ricorrere anche alle istituzioni come l'Università stessa che possono correre in soccorso, possono supportare, possono dare i giusti consigli per affrontare meglio la giornata, per affrontare meglio il percorso che si sta facendo, per affrontare meglio gli ostacoli che si stanno incontrando. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo ennesimo tragico episodio. Ed è per questo che questo Ateneo vi vuole far sentire la sua vicinanza e si mette a disposizione per tutte le vostre problematiche, per tutti i vostri problemi. Noi cercheremo di risolverli, chiaramente utilizzando il più possibile la discrezione, cercando di non avere mai un impatto troppo forte su quelle che possono essere le vostre vite, ma mettendoci appunto a disposizione, cercando di darvi il giusto consiglio. Io vorrei ricordare che questo Ateneo da anni, oramai, ha messo al centro l'apprendimento e non l'insegnamento, perché quello che conta sono le studentesse e gli studenti del nostro Ateneo. Quello che conta è che essi possano seguire un percorso adatto a loro, un percorso che dia loro soddisfazione, un percorso che li faccia star bene. La nostra campagna per il benessere è una campagna che continua giorno dopo giorno. E tutte le iniziative, tutte le attività, tutto il supporto che voi potrete cercare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, sappiate che l'Ateneo saprà darvelo, con il personale tecnico-amministrativo, con il personale docente, con i consigli degli studenti, con tutte le commissioni degli studenti, che sono certo, si metteranno sempre a disposizione di ognuna e ognuno di voi. Non abbiate paura di chiedere aiuto. Non abbiate mai paura di chiedere aiuto. Guardiamo in alto, guardiamo la bellezza del cielo, guardiamo la bellezza del paesaggio, guardiamo la bellezza delle persone che abbiamo a fianco e continuiamo ad amare la vita, che è bellezza pura.